Siamo su Call Zombies insieme a Joel e I. Questa volta, anzi quest'oggi faremo una partita a zombie, in questo caso Chitnappa Città. Non sarà un episodio singolo, ma sarà una serie di episodi che usciranno col tempo, non so con quanta frequenza, però comunque li farò uscire tutti almeno una volta al mese. Diciamo, non saranno editati... Non saranno editati al massimo pochissimo, perché vogliamo creare questa cosa di... Esatto, questa cosa di zombie, come vecchi tempi che... Una cosa integrale e basta, una bella partita a Città, godersi e via, in episodi. Invece che fare un video di quattro ore, facciamo un video... Una live. Sì, esatto. Però almeno abbiamo un po' di qualità, pure, dentro il webcam e io devi cominciare e basta. Che bello! Ma no, che era bello! Mamma mia, la qualità è stupenda. Comunque sì, siamo in uno schermo finalmente singolo, invece che diviso come sempre abbiamo fatto in live. Tu è ballista. C'è ballista, eh, vedi. Solo armi al muro, ah sì, certo. La sfida è fare... No, sopravvivere solamente con le armi al muro, quindi in realtà possiamo cambiarle quanto vogliamo, no? Sì, esatto. Però vabbè, tra virgolette, all'infinito però sembra le stesse armi, però... Sì, vabbè, alla fine. Abbiamo scelto questa versione di Città perché dovrebbe avere anche il bullying e dentro ci dovrebbe essere anche, forse il PDB, non mi ricordo. In realtà non me lo ricordo. Però sappiamo che c'è il ballista... Sì, perché era solo sotto, giusto, del fuoco? Ah, l'arma... C'è calcio nel muro in realtà pure. L'arma dovrebbe essere quella... Buono, non lo so in realtà. Vediamo. Io direi di aprire direttamente poi qua. Allora, quindi il pronostico qua lo faccio io perché il video è tuo, giusto? Vai, per il pronostico, a proposito, aspetta, ci sono comunque... C'è anche un'altra serie sul tuo canale, su un'altra mappa, ma con un'altra sfida. E con un'altra mappa. Esatto, l'ho detto. Un'altra mappa e un'altra sfida, quindi comunque, sempre non evitato. Eh, vabbè, sì, perché vogliamo vedere questo stile... Perché in realtà, cioè, in giochi così, Lady, che c'è negli altri video, non ha senso con noi perché... Tu doccan ci può stare... Qua se ti diffusi? Sì. Tu doccan ci può stare comunque perché tu editi un po' perché comunque è un gioco un po' più... È diverso. Qua è molto... È molto... È la parte peggiorale del video è il gioco. L'AMM, la possiamo dire. C'è la webcam che... Quindi sai, la puoi dire di più qua... Che c'è solo il gioco, se tu ti metti a editare, vedi il gioco, vado a scatti per la tina hand. Ah, sì, io sono d'accordo con te, però dipende da che tipo di video vuoi portare. Perché, per esempio, il nostro video di Origins, che metto nelle schede, se non ricordo, è un video abbastanza... Molto... Sì. Molto... Montanmy Moments. Allora, però, esatto, però non è... Non è impuntato sul... Sul... Sul gioco... Non è impuntato sul gioco, è impuntato sul... I nostri reazioni, esatto. Sulla comicità, tra virgolette. Quanto è il ballista, mi hanno il ballista? 500. Dai, 1200, con c'è il PDV. Quello è ballista. Lol. Comunque c'è un'altra porta qui, vedi, eh? Quindi forse c'è un'altra arma. No, vai al... Vai al bullying, la metà. Vado al... Non mi voglio essere per il bullying. No, è dall'altra parte del bullying. E infatti? Eh. Aspetta, ci siamo confusi, mi sa. Ah, vedi, è riuscito dal bullying. Nella casa del jug. Ah, al jug? No, accanto al giallo. Sì? Sì. Qua. Bomba subito. Sì, l'apro. Allora, vediamo. Eh, quella che è la cera che l'ha chiusa. Sì, capito? Ah, vediamo se c'è un'altra arma. Qua si può aprire. Sì, si può aprire anche quella là. Quello è... Ma più, dove porta quella? Questa porta alla? Altre armi, no. Alla banana cola. E' tipo, quando scivoli, lascia un qualcosa che fa scivolare. A me è tanto per dirla. Ah, qua ci sembra quando è di una cassa. Vabbè, ti capirà. Ah, è tipo un liquifattore, l'acqua, come cavolo si chiama. Sì, però che non lo uccide. Ah, no, li fa solo scivolare? Sì. È tanto per il meme, tipo. Ah, ok. Io sono col ballista. Mi sto divertendo. Un po' non è il ballista col mitron grande. Oh, munizioni. Vabbè, guarda. Sto avvicinando. Porca, aspetta, non dobbiamo morire, però. Qua sono gli smart per fare il ballista. Ma sai che ho aperto qua sopra, sai? Dove? Oppure no, ancora non l'abbè. Vabbè, abbiamo 750. Ah, buono. Qua c'è l'MP40. Eh, c'è l'MP40. L'MP5 che ho cambiato. Eh, sì, l'MP5, vabbè. Ok, qua c'è la scala che porta... Alla porta quella, ok, questo. Ah, ok, quella. Quindi il muro sono queste. Non sono... Stanno alla cassa per forse c'è il Bowie o il... Vero, c'è il... L'ha, il Bowie. Da dove c'è il Bowie cosa hanno messo in realtà, più che altro. No, qua c'è sempre io. Eh sì, c'è sempre il Taser. Ah, il Taser sempre hanno lasciato. Eh sì. Ah, c'è l'Istant. Eh, zombie? Dove siete? Lo vi un po' uccide qui. Ok. Comunque è bellissimo. Ah, per fortuna l'abbiamo scelto questa, scusa per te dire. Per fortuna l'abbiamo scelto questa, forse è molto meglio. Ma sì, ma c'è l'altro, ah no, il Ballista. Il Ballista, quella c'è. Ah, l'MP40. L'MP14. 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 Sì, l'MP40, ancora costa l'MP40. Magari l'MP40. Sì, davvero. Oh. Punti, potrei avere uno zombie che lo uccida, grazie. Ecco, quando è finito l'Istant, ma io gli ho. Però, c'è da dire che ho 4.000 punti. Quindi penso che... Poi che arma c'è il Taser, l'avevo detto. Sì. Ma non è il Taser 6.000, sembra. Eh, penso che ormai le armi siano PDV, MP5, al massimo Ballista, ando per il nero. Sì, esatto. Quindi qua si può prendere il PDV. L'Olympia, no? L'Olympia è tipo la Reagan. Ah, c'è anche l'Olympia, mi sa. Eh sì, è. Che è qua. Ah, ok, sì. C'è il bug famoso dell'Olympia Reagan. C'è la lapide pure. Certo, c'è la lapide. Mi pare. Peccato che qua sopra non ci sono a me. Eh, ma... C'è l'epicinio da sopra. Eh, lo so, però... Ho solamente un'arma al muro, che è per carità. Ma il Jug è buonissimo. Dov'è il Jug? Allora, al Jug. Giusto, vero. Quella cosa è il Jug. No, ma capisci, non ho capito. Dove è il posto per girare il bullying, eh? Sì, è proprio che è qua sopra che è tutto per girare. Ma tu avevi fatto il pronostico o sbaglio? Sì, 17. 17? Sì. Ah, bello, bello. Il Jug comunque me lo ricordo che lo diavolo come posto. È un po' sconveniente. Sono le lanzoni. Eh? Sono le canzoni. Eh, certo. Ma no. Ma perché? Nella mappa di piano non c'erano le canzoni. No, stupendo, ci sono i rupi. No, c'è anche le canzoni qua. Sì, qua sì. Qua è fatta enorme il Jug, guarda qu'è fatta enorme. Sì, ma è gigante. Ma te è ancora più grande. Ma è più grande, a me è anche la seconda più grande. È vero, hai ragione. Ma no. Comunque è stupendo l'effetto... Eh, come dire... Oddio, come si chiamano? Le ho studiate. Le bande nere sopra e sotto. Non mi dico più il modo. Ah, è l'effetto cinema. Sì, fanno molto da cinema, molto carino. Se mi voglio scoprire l'effetto cinema, oppure no. No, è tipo... Ma la banda? Letterboxd, oppure qualcosa. Ma la banda? Ho aperto la banda. Voglio vedere che arma c'è. Ma la banca? C'è FITCOLA. Eh, vabbè, quello sì. Vedi se c'è un'arma. Tanto che la sfida consiste in quella. Scusate, no. Non c'è nessun'arma, bella, bella. Però è... È un... Problema. È stentissimo. È una... Poi praticamente non potremmo aggirare, allora. Mi voglio già solo al bullying di due, praticamente. Oddio, al bullying di due non mi sembra molto conveniente. Capitale. Vabbè, se c'è l'istante. Ah, buono l'istante. Almeno bene. Poi sai che da dietro non è fauno lo zombie, sai? Da dietro. Da qua. Da dove sono io qua dietro? Non è fauno lo zombie? Eh, da dietro no. Forse è da terra. No, ma si può più, è quella banca, quella granata. Ah, c'è il PHD flop. Mi potenziona la Mustang and Sally. Eh, mi vende il PHD flop. Eh, sì, è c'è l'ancato. Eh, io no, è tolto. Più... Ok, ho le mie armi. Vabbè, si sta. Stupendo. Vabbè, io ho... L'MP40, L'MP5 e PDV, ti vedi? Ah, vabbè, giusto. Ma tu per poi è finito. Ti è poco come può carangere già la prima arma. Eh sì. Poi fai, ma sangenzelli? No, secondo me meglio l'altra. Poi ti fai punti, già precisi. Vabbè, ancora non c'è bisogno di un round 8, secondo me, di potenziare. Sì, ma assolutamente. Ma più che altro mi potenzione prima questa, così con PDV mi faccio i punti. Ah, mi raccomando, passate dal mio canale per vedere se il prossimo del mio canale è stato rispettato, superato o non sono arrivati. Ma loro non sanno il nostro del tuo canale. Eh sì, esatto. Andate a vedere... Andate a vedere com'è andata. Eh, bello. Eh, ce ne... Eh, ne vedete delle belle. E' sempre soppallare. E' di più bello. Ma quando è buono è stato? Quando è buono è stato già? 10 minuti. Vabbè. Perfetto. Molto buono. Poi me la gestisco io con... Poi sei che tipo... Ah, bello a tutti i ragazzi domani. Ah, l'ho fatto come ho fatto io, praticamente. Non so se fare così o può, mamma mia, quanti zombie. E infatti anche io ho visto questa cosa, ma guarda. Però è vero. Eh, buono, buono. Non so se fai la stessa cosa che hai fatto tu, oppure... Non so se sì, ci sta. Oppure, cioè, continuare senza... Senza dire. No, è troppo, ci sta, sento. Ma noi hai detto bene a tutti, siamo demopodet, ma rende. Ah, ok. Vediamo, vediamo. No, è già finito, va. Poi devi vedere qualche altro quando farlo, capito? Eh, lo so. Ma se lo faccio nei 15 minuti. Ci sta. Io devo prendermi già le emulizioni. Ok, sono a 5.600. Ma non è che qua è più facile girare, rispetto a... Ah, ti sentitovi bella. Come è quella? Ho la stamina, proprio. Eh, la stamina, ah, è la stamina, ok, allora. Ti pare. Tu, Gianni, sì. Ti apre, faccio dopo. Però se ti hai letto, prendo comunque. Eh. Sano. Io penso che mi prenderò... PhD. Eh, certo, il quick-revale che serve. Non so se c'è limite di 4x che tu la sai, non lo so. Eh, vuole lo so, non lo so. Penso di sì, però. Lui no. Così al massimo possono metterci anche quello che vogliamo. Però il quick-revale che secondo me serve. Il chiavoglio, il chiavoglio la potrete. Il chiavoglio non so quanto... Eh, è che il chiavoglio era? Non lo so. Non stavo me lo ricordo. No, non so, completamente. Oh mio dio, guarda che cavolo sono. Quando più punto, più punto, più... La cosa positiva qua, che... La tettoia è tapparente. C'è noi passiamo in mezzo alla tettoia là. Che tettoia? Passa qua. Passa qua. Ah, ok. Mamma, stavo per vederti, stavo per morire, che bello. Però col phd, in veria, il fuoco andrebbe farti male, vediamo. Magari. Vediamo, vediamo. Io paravaggio. Attenti, ti devo prendi immediatamente. Paravaggio, io l'MP5, perché ho pensato questo. No, va, no come. Funziona male il phd. Eh, non dovrebbe farmi male il fuoco in quello. L'MP115 Collider. Oh. E per forza, perché ero senza munizioni. Per forza. Per forza, io sapevo la porta di prima e avevo preso 47.500 munizioni a terra, l'avevo trovato. Ah, mia vero. Eh, qua neanche una volta è giusto, se non sbaglio. No, due volte, sì. Due volte? Sì. Qua tipo all'inizio. Sicuro che nel phd flopper comunque è fatto vedere quello del fuoco. No, non funziona. Non è lo shelter, mi sa. Non funziona. È il phd shelter, posso voler il fuoco. Sì, il phd shelter. È l'altro. Ma esiste un altro? Sì. Ma quando? Ma dove? Boh, sul rust esiste quella sul rust. Sul rust. Vabbè, là ci sono 47 pet. Eh, capito. Che poi hai tutti, Sammi, quindi... Vai che mi chiamate il tuo. Ti rubo un po'. Eh. È un po' complicato qua per sparargli perché c'è il fuoco dappertutto. Vai, è distante. Vabbè, ora, con calmo. Fammi riepillare, amico. Giusto, giusto. Ho due macchine a guerra. Ho due macchine a guerra. Mi ne prendo una. Vai. E insomma, mi sono finiti. All'inizio. Stupendo. Il macchine a guerra è... Hai 10 mila punti, perché voglio pagliare tutte e due le armi. Ma qua c'è il tuo preferenziamento, credo di sì. Penso di sì, spero. Ah beh, sì, è due poste. Devo fare round 11. Buono, buono. Ok. Mastangensali, vediamo. Ah, je. Ora, Regan. Regan, boh. Amina, per forza. Per forza. Per forza. No, non ci ho pensato io, perché non avevo visto il... E poi, Spircola. E ora, vediamo se c'è i limiti di 4 perk. Controllo subito. Ah, non è vero. Io non c'ho di 4 perk, ma... Ma due, devo prendere la speed ora. Eh sì. Vediamo. Non c'è il limite. No? No. Stupendo. Possiamo meno i 5 perk che vogliamo, pazzesco. Per forza. Per forza, l'altra onda. Dei, dei, dee. Let's go, scherzi così. Buono. Mi prendo subito. 1.5. 1.5. Vero? Cosa? Poi non c'è l'armi nell'rp5. Bellissimo. Super. E io prendo la speed. Dai, prendi tutto all'ultimo. Dai, filmo. Tanne da Tomston. All'ultimo ti sei veramente... Infame. Infame. Vero, questa partita non finisce così. Eh beh, l'altra ti ricordo che c'è la speed e tutto. L'altra avevamo, diciamo, delle armi particolari. È del... È una mappa particolare, comunque. Un po' più complicata. Questo è un po' più chill. Anche se è più piccola questa qua, questa qua la cosa è la differenza. Poi fa tutte le armi che hai. Eh, capito. Spoiler. Spoiler. Spoiler, spoiler. E poi devi guardare tra tu. Perché la spida hai fatto tu, perché io non l'ho fatta la sfida, la possiamo dire. Perché? Io una carmina avevo. Ah, vabbè, sì. Tu vai giocando normalmente, io porto la sfida. Ma solo una carmina c'era. Non c'era l'arma. No, però non ce la so. Che cosa posso prendere? Che cosa posso prendere? Che poi scusami, ma andiamo al muro. La Mustang vale, è vero. No, vero. E siccome anche tu l'hai letto nel tuo video, ah, la Mauser, puoi potenziartela. Che senso ha? No, il mio era... Eh no, no, è la stessa cosa, no? Ah, è vero. Vabbè, me la cambio. Sì, vabbè, alla fine del mio comunque, se due non c'è, siamo... L'arma iniziale non l'avevo presa. Eh? L'arma iniziale non l'avevo presa. Non gridare. Hai capito? L'arma iniziale non l'avevo presa. Che vuoi dire, l'arma iniziale non l'abbiamo presa? Hai detto il nome di un'arma un po' particolare. Ah, vero, l'arma iniziale, non quella che ho detto, che non è vero. Vieni, anche ci vede. Ma come hai fatto a pensarci? Eh. Ma anche... Ma anche il pensiero. Eh, vabbè, la cambio, che devo fare? Peccato per... Vabbè, sì. Cambi ci sono, ballista, prendiamoci l'Olimpia. Vabbè, ci sono. Mi dispiace per questo inconveniente ho buttato 5.000 punti. Vabbè, gli altri... No, io 7.000, scherzavo. Ho finito l'armi delle... le WP5 di nuovo. Mamma mia. Però mettica solo l'Olimpia con i fuochi d'artificio sarebbe devastante. Sì, però deve fare sempre. Deve farlo sempre. Perché è bello che il pagamaggio qui è pagato e lo provo a fare di lato pure. Ah, i peributi. Certo. E due. La prossima... Ah, mi hai un WP5 pure potenziato? Certo. Ah, vedi qua il trucco. Però non so qual è il fatto che l'WP5 non fa tanti danni. Eh, quello serve solamente per i punti. Cioè, ti consiglierei di usarlo solamente per quello ma non potenziato. Ecco. Ok, comunque me li posso prendere. Che c'è? Oh, tiradei sono. Ah, sono il bianco. Ti ricordo che c'è il meme del bianco che aveva tutto... che era quello che attirava di zombie. Ma capisco, tu... Ma io... due. Mi devo contare... Solo devo 5.000. Non è possibile. Sì. Eh, la serie devo mettere qualcosa a fuoco di attivicio, altro forno, qualcosa lo devo mettere io. a fuoco di attività. Grazie.